il banchetto funebre è cancellato potete andare a casa cosa che razza di famiglia devi andare alla stazione di lichtenberg e tuo nonno sta partendo per l'ucraina nonno non puoi partire è chiaro a quanto pare sì stiamo andando in balacchia e tu dici bene almeno non è da solo perché andate a kiev domandalo a mio nonno sto cercando una persona deve avere a che fare con la guerra non ne hai mai parlato tanto non capiresti una che nella vita non ha mai concluso nulla e tu cos'hai concluso eh tu odi le persone che invece dovresti amare io sono ucraino ma sono anche russo si può essere entrambe le cose molti ucraini non sarebbero d'accordo mi ha detto che devo scegliere da che parte stare probabilmente esiste un fascicolo su di lei chiedi di cercare anche il fascicolo su mio nonno non devi farlo chiedi io vuole soltanto ritrovare una donna che ha amato nonno sto solo cercando di conoscerti voglio solo sapere perché siamo chi siamo nonno sto solo cercando di conoscerti Grazie a tutti.